Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con la beta di Rainbow Six Siege Allora ragazzi, qua vediamo se possiamo già barricare, perfetto Sono entrati in una partita dove stiamo già vincendo 1 a 0, molto molto bene Molto 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 bene, qua non ci fa barricare no? Qua, quanti ci mancano? Ancora 20 secondi ragazzi Ancora 20 secondi, aspetta qua potevo barricare, perfetto Barichiamo tutto, tutto closed Oh, enemy found the object, cacchio Non è una bella cosa, qua non si può chiudere Ah l'obiettivo è questo qui, qua possiamo chiudere Vediamo tutto, perfetto, molto bene Possono entrare da qualsiasi parte, soprattutto da questa Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo, abbiamo con lb, oh lo scudo Da piazzare, che possiamo spostare a nostro piacimento E metterlo eventualmente Questo che cos'è? Oh cacchio Oh cacchio, qua stanno già arrivando Aspetta che lo piazzo Piazza sto bello scudo Non me lo piazzi? Qua non si piazza? Ok Benissimo Così stiamo belli camperati Bene così Mo va capita Do cacchio vengono? Tutti che vengono da noi? Poi che ci abbiamo? Quello è tipo un Una specie di indicatore Poi ci abbiamo la telecamera Poi ci abbiamo il tipo di Un colpo singolo Un colpo lungo Oh cacchio Che si pazza Oh cacchio Ragazzi stanno qua Boni, aia Una miseria Torcello Stanno il torcello ragazzi Cacchio Nooo Guarda tu cacchio Ci ha acchiappato Ma come con la pistola? Con la P12 ci ha ammazzato Dai con la pistola Dai regà Con la pistola Dai È incredibile Non si può vedere una cosa del genere Non si può vedere con la pistola 2 a 1 Dai che ce la dovremmo fare Dai che ce la dovremmo fare Dai regà Dai regà Nooo Dai Aspetta Cambiamo telecamera Perché sto con queste telecamere orrende? Una peggio di un'altra Questa è rotta Questa è rotta C'è sta nessuno Non potremmo vedere nulla Support mod Ehi E andiamo Grandi ragazzi Nemici eliminati 2 a 0 per noi Un po' Oh Oh Da per terra Non mi dica l'ho ucciso da per terra No fenomeno Fenomeno L'ho ucciso da per terra Grande Grandissimo Grandissimo ragazzi Allora Allora Volevo mutare Il gruppo Blue Team Match point Round 3 Dobbiamo vincerlo ragazzi Per portarci a casa La vittoria Andiamo a vedere Come prima arma Che avevamo LR33 Che mi piace La pistola Mettiamo la mitraglietta La granata La granata Invece Ok Granata A frammentazione Perfetto Conferma il Posizionamento E possiamo andare 18 secondi ragazzi E parte il terzo round Cerchiamo di vincerlo Così praticamente Ci portiamo la casa La vittoria Domani ragazzi Torniamo nuovamente Con caccia Alli terroristi In modalità Hard Perché mi è piaciuto Veramente tanto Realist E' veramente difficile Normal E' fin troppo facile Quindi Hard Penso che potremmo Giocarcela molto bene Allora Andiamo a cercare Innanzitutto La bomba Vediamo da che parte Possiamo entrare Penso che da qui si Perfetto Andiamo un po' qua Qua non c'è nessuno Qua Andiamo Piano ragazzi Qua chi c'è Qua niente Andiamo giù Ah Stanno pure i compari Qua Però se quello sta Venendo da là Guardi che non c'è Sta niente Qua Vabbè Noi nel dubbio Andiamo comunque a vedere Qua una mazza Qua stiamo a ritornare su Quindi niente Via 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 10 secondi Non abbiamo troppo niente Regà Non abbiamo trovato una mazza Non cacchio sta l'obiettivo Qua niente Via via Un secondo Niente da fare Partiamo Allora andiamo con tutti quanti Cioè abbiamo Un LP La granata E con ERP Quell'alto Le granate Normali Ok Andiamo Che figata Che figata Andiamo tutti insieme Andiamo tutti insieme Piano Piano Oh cacchio Là che c'è sta Io direi di salire qui Se sei d'accordo Possiamo andare Piano Ma fate danni Fate danni Fate danni Aspetta Granata Tattica No Aspetta Aspetta Su Su Riamine Ce la fai a rianimarti Cacchio fai Qualcuno che Tu slow blow Ah Per le perdite di sangue Però se nessuno Mi viene a aiutare Regà Ragazzi Qualcuno Oh Grande Qualcuno mi ha rianimato Grandissimo Grandissimo Oh Grandi Perfetto Hanno fatto tutto loro Noi stiamo un attimo A vedere Ah quello sulle scale Ha ucciso Grande Ma che ho ammazzato Regà Assurdo Forse ci stavamo a sparare pure noi Mica l'ho capita sta cosa Abbiamo vinto ragazzi Senza fare un'emerita Ceppa Meglio così Spero che il video Sasse vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Sul mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale